Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazzacu E io sono Tatsuna, anche se ancora per poco, così risolviamo la questione del nickname Perché ancora per poco? Non si capisce, oh Gesù, ci hanno detto che non si capiscono i nickname, non vi preoccupare E come ti vuoi chiamare? E poi vedremo Ma è con me, no, lo devi dire subito No, poi quando lo tengo, lo sto ponderando Vabbè, allora prossimamente cambieremo i nomi, anzi lo cambi solo tu, io e il mio Certo, sì, 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 cambiamo Allora, in questo video, sai di cosa parliamo? Siccome ci stiamo avvicinando alla partita con l'Inter Domani probabilmente ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte E noi reagiremo anche a quella, la commenteremo tutti insieme Poi, come facciamo di solito, faremo anche il nostro pre-partita Mentre aspettiamo quindi questo momento C'è un argomento di cui si potrebbe parlare in avvicinamento alla parte con l'Inter Cioè la questione modulo che un pochino se ne sta parlando Se continuare con il 4-3-3 Che poi è molto particolare questo 4-3-3 che stava facendo Antonio Conte Perché in fase offensiva è un 4-5-1 a tutti gli effetti Anche 5-4-1 in alcuni momenti della gara Quindi è complicato da identificare proprio come 4-3-3 classico E l'idea che sta un pochino girando è di ritornare alla difesa 3 E per me questa non è un'idea ma è una necessità Allora, naturalmente per quel che mi riguarda vogliamo proprio essere precisi E' ovvio che non si tratta tanto di un ritorno della difesa 3 Perché la difesa del Napoli diventa sempre a 5 quando difende E non è neanche poi una novità perché alle volte capitava anche con Garcia e con Spalletti Sì li ho nominati, li ho nominati incredibili Non capitava che potessimo schierarci a 5 dietro quando si rincasava La differenza fondamentale è togliere un centrocampista dallo spazio Per mettere un altro esterno che stia a coprire E quindi mettere poi il difensore dietro Per permettere alle due ali che devono stare davanti Di stare più attaccati a Lukaku come all'inizio Perché questo è ciò che è cambiato davvero nelle ultime uscite Adesso con la lavagnetta tattica Adesso la andiamo a vedere bene nel dettaglio Prima però vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella Per rimanere sempre aggiornati sui video che carichiamo Se volete seguiteci su Instagram e TikTok Sempre senza giri di parole ci chiamiamo E condividete il video così ci aiutate a crescere come canale Guarda più o meno il discorso che stai facendo tu è collegato a questo modulo qui Con Kvara molto più vicino a Lukaku E qua io vabbè ci ho messo McTominay perché Politano sta facendo più il lavoro difensivo Vai puoi continuare Allora dicevo la differenza vera è quella Semplicemente perché ragazzi se tu hai le ali così tanto lontane fra di loro O hai un supporto in termini di fluidificazione particolarmente rilevante Quindi McTominay che sta su quel lato e Olivera che sta sempre su quel lato Fanno tanto lavoro di spaziatura del campo E quindi rubano lo spazio ad altri potenziali marcatori Così che Kvara può avere più libertà nell'incendere Così come allo stesso tempo si dà più disponibilità a Politano Per accentrarsi per stare un pochino più vicino all'attacco Che è la cosa che conta perché ribadisco Questa è sempre la stessa cosa Io sono grato in prima persona per quello che fa Politano Soprattutto se poi il mister lo ritiene importante Però ci siamo presi in giro per troppo tempo su questa storia L'equilibrio difensivo te lo danno i difensori Quello che ti può dare un attaccante in più è tutto di guadagnato Ma che non ti può permettere di influenzare la prestazione difensiva Se i difensori non funzionano Non ci sta Politano che tenga Che possa cambiarti la partita in positivo Può solo aiutarti E io apprezzo molto che Politano aiuti Però Politano deve fare l'attaccante Perché mi serve davanti Proprio per ruolo mi serve E per ruolo, per compiti come volete voi mi serve Quindi la differenza principale è questa Ora io mi rendo conto che Conte Se non gioca a tre dietro Non si sente tranquillo sulle fasce E quindi i terzini A parte qualche volta che si sono potuti prendere qualche libertà in più Ma soprattutto di Lorenzo Anche perché noi attacchiamo molto di più sulla fascia destra Che su quella sinistra Per me fatto ispiegabile del Napoli di Ponte Siamo arrivati al punto che Olivera e Quara non li vediamo quasi mai Salire per davvero Se non proprio quando stiamo schiacciando l'avversario Olivera praticamente mai Quara vabbè per definizione sale Ok Ma Olivera praticamente mai Se non quando l'avversario è effettivamente schiacciato E quindi c'è campo da coprire Mentre Politano e Di Lorenzo vanno un pochino più avanti Con Politano che però arriva sempre poco Pregno di carburante alla porta E quindi per me la soluzione è Se tu vuoi stare tranquillo sulle fasce Metti questo dannato difensore in più Togli sto dannato centrocampista Se vuoi McTomeny lo puoi riciclare Come io ho pensato originariamente a fare il Il tornate di destra Che però non fa ovviamente Cioè è dato per scontato che quella posizione In realtà sarebbe fluida Qualche volta la occupa Politano Qualche volta la occupa Anghissà Qualche volta la occupa davvero McTomeny La cosa importante è avere i giocatori Che facciano le cose giuste Quindi così come ti riempiono l'area In fase offensiva Poi ti vanno a dare anche una mano in fase difensiva Ma senza rinunciare a nessuna di queste fasi E al momento noi con lo schema che abbiamo Attualmente o meglio con i giocatori Che abbiamo attualmente Con McTomeny attaccato a Lukaku Politano molto lontano dalla porta E Quara isolato Siamo completamente nulli dal punto di vista offensivo Io sinceramente Ne farei più un problema Legato all'attacco Perché difensivamente parlando Diciamo che Il Napoli di Antonio Conte Non è che abbia cambiato così tanto Come hai detto bene anche tu Quindi È più una questione di Come si deve attaccare Perché quando noi attacchiamo È vero che Si parte sempre con questo 3 Che poi Facciamo 3-1 E poi tutti quanti in avanti Il problema È diverso rispetto a come L'avevamo visto all'inizio Perché all'inizio Vi ricorderete che Di Lorenzo Noi dicevo L'avevamo notato che Di Lorenzo Non faceva più quel lavoro Sulla fascia Perché perché era più bloccato Era più bloccato Di Lorenzo Si faceva più L'inserimento da dietro Tipo come era successo Come con il Bologna Che era un giocatore Che si aggiungeva ancora In più Alla fase offensiva Cioè secondo me Si dovrebbe ritornare A quella A quella visione Di calcio offensivo Che aveva avuto Conte all'inizio Cioè con il Di Lorenzo Un pochino più bloccato Che si occupa Della fase Difensiva E poi vabbè Quando si crea l'occasione Ti fa l'inserimento Certo vai a perdere Un pochino Comunque Di Lorenzo Che si sta Mettendo bene in mostra Sulla fascia Però almeno Potresti dire Appolitano Di essere un pochino Più Spregiudicato Quando poi andiamo All'attacco Che tanto Quando poi andiamo In difesa Comunque sia O con la difesa 3 O con la difesa 4 Sembra la stessa Situazione Si viene a creare Con Di Lorenzo Che si stringe Rachmani E Buongiorno Che scalano Olivera Che scende E Politano Che prende Diventa un quinto Quindi Quindi o lo fai Con la difesa 4 Lo fai con la difesa 3 Sembra la stessa Situazione Sembra la stessa Linea difensiva Lo fai a ricreare Quando poi ti devi difendere L'unica differenza Secondo me È che Prima A Quara Magari Gli dicevi Di non Venire A fare La linea Di 4 Tra i centrocampisti Ma lo facevi Rimanere Comunque lì Nei pressi Di Lukaku Perché io mi ricordo Che Quara All'inizio Non è che lo faceva Tornare così tanto Invece ultimamente Perfino a Quara Gli sta facendo fare Proprio un lavoro Come glielo faceva fare Spalletti Di venire Proprio a difendere Tutti quanti In trincea E questo è ovvio Che non solo Va a stancare Il giocatore Perché è un lavoro In più Poi quando arriva Sotto porta Lo si diceva Spesso anche Di insignia Ma era vero Purtroppo poi Non puoi avere Quella lucidità Quando poi vai A fare la fase Offensiva Se tu hai fatto 20-30 minuti A difendere A correre Addosso all'avversario Quindi Magari si dovrebbe Ritornare Ad avere Un pochino Più di Di voglia Di far male Con Quara E con E meno Quest'idea Di dover Per forza Difendere Tutti quanti Insieme Cioè magari Ti Rinunci A Quara Che ti viene A dare una mano E difendi In questo modo Qua Con i tre Centrocampisti E i due Quinti Capito In che senso Allora Guarda Questa potenzialmente Può essere una soluzione Però il problema È che questo Non è stato il problema Di Quara Perché Quara È tornato A difendere Anche nelle Per me Ottime partite Con il Bologna Con il Parma Con il Cagliari Solo che Quando andava avanti Non era da solo E non gli stavano Tre uomini addosso Perché stava sempre Da solo E soprattutto Aveva la possibilità Di giocare Molto più centrale Per il campo Quante volte abbiamo detto Quara sta facendo Tre quartisti In questa fase Della partita Perché C'è Olivera O Spinazzola Che dir si voglia In quelle situazioni Che stava molto alto Nel suo vertice Di campo Però poi Lui si accentrava Questo lavoro Ora lo fa McTominay Ma con la paura Che tu hai Con la difesa a quattro Con i due difensori Dietro Di non far salire Troppo i terzini O quantomeno Non tutte e due Perché se sale Di Lorenzo Olivera Non deve salire troppo Se sale troppo Olivera Che non sale mai Perché noi a sinistra Non costruiamo Allora Di Lorenzo Non deve salire E ci troviamo Sempre in una situazione In cui Quara sta da solo Perché quello È il problema principale Lui ha difeso Nella partita Col Bologna Quara è stato fondamentale In difesa E è tornato Tantissime volte Però poi Quando andava in avanti Collaborava molto Con i compagni Stava proprio A stretto contatto Con In quella partita Se non mi sbaglio C'è stato C'è stato Simeone E ha lavorato A stretto contatto No era Raspadori Era Raspadori Mi sono ricordato Era Raspadori E ha lavorato A stretto contatto Con Raspadori E ha fatto pure Una bella partita Da quel punto di vista Ma se si gioca 3 stasolisse Contro 3 Il problema Non lo risolveremo mai Ma Quello è il fatto Che con l'arrivo Di McTominay Hai detto Bene tu Cioè Quello che chiedeva A Kvara All'inizio Ma io lo stai chiedendo A McTominay Quindi Kvara Lo fa stare più largo Cioè se McTominay deve stare Vicino a Lukaku Cosa che prima Faceva a Kvara E mo Che a Kvara Lo dì Per forza Fa stare più largo Se no si va a pestare I piedi con McTominay Quindi il problema Sta lì Cioè O Preferisci McTominay A stare vicino a Lukaku Si preferisce A stare vicino a Lukaku Cioè non puoi farli stare Entrambi Secondo me Perché si pesterebbe I piedi a vicenda E poi sarebbe Troppo prevedibile Poi il gioco del Napoli Perché Stanno praticamente 3-2 giocatori Più o meno Nella stessa posizione E ci sarebbe Troppo spazio Sulle fasce E' ovvio Che poi La contromossa Dell'allenatore Avversario E concentrare Più sulla fase Centrale Nella fase Centrale Del campo Il modo Di difendere Quindi Secondo me Bisogna semplicemente Fare una scelta O McTominay O Kvara Vicino a Lukaku Non puoi tenerli Entrambi Non puoi E per come stiamo vedendo McTominay Ha funzionato Fino a un certo punto Ma In piano piano Anche Scott Sta avendo delle pecche Kvara invece Stava funzionando Alla grandissima Quindi Al limite Si potrebbe Tornare indietro Rinunciare a Scott Così tanto vicino A Lukaku E ritornare Ad utilizzare Kvara Eh? Ma Questo In caso Di difesa Di difesa 3 Sarebbe obbligatorio Perché un centro Napista Lo devi togliere Quindi se anche Tu tenessi McTominay In campo Se per esempio Ha accompagnato A McTominay C'è lo Botka Lo Botka Non è che va a fare Lavoro centrale Vicino a Lukaku Così come non lo farebbe McTominay Quindi in quel caso Il problema Non si vorrebbe affatto Vabbè ma Ma è sempre La stessa richiesta Perché per esempio Noi come avevamo giocato Ci stiamo a Zocchi Mazzocchi qua E Politano qua E quello era Politano che poi Veniva a fare Questo lavoro qua Cioè Ma l'unica differenza È che stiamo a McTominay Esatto Esattamente Quindi non è Non è un problema Tattico Nessuno si pesterebbe I piedi È un problema Di uomini Lui ha Lui ha voluto inserire McTominay Però non l'ha voluto Inserire In uno scenario Difficile da interpretare Per il ragazzo Che era appena arrivato Perché al posto Di chi lo dovevi mettere Non lo potevi mettere Al posto di Lo Botka O di Anghissa Perché non puoi rinunciare A loro Quanto meno all'inizio Non poteva Ma non lo puoi mettere Al posto di Mazzocchi Io me ne rendo Perfettamente conto Soprattutto per l'inizio E non lo puoi mettere Neanche al posto Di Politano O di Quara Perché è proprio Fare una scommessa Sulle potenzialità Del ragazzo Che lo mette a fare Il trequartista Con tutti quelli che hai Con tutti quelli che hai Raspadori Ngong Lo stesso Simeone Che può adattarsi A stare vicino A Lukaku Neres Che era appena arrivato Insomma Era impossibile Per cui La mossa Di passare a 4 Non è stata assurda Anzi Ci ha anche aiutato In alcuni frangenti Per esempio Ci ha aiutato All'uomazzocchi Dalla formazione di Dolare Che possibilmente Penso sia stata La cosa migliore Però siamo arrivati A un punto In cui I difetti Di questo Di questa Tratagema Sono usciti fuori E sono usciti fuori In maniera prepotente Sempre di più Dopo ogni partita E ci abbiamo perso Un'ennesima gara 3 a 0 Cioè non è Non è casuale È proprio una cosa Che è successa Perché l'avversario Finalmente ha capito Quali sono i problemi Di questo schema E te li ha Rigirati contro Ora tu Puoi agire Ignorando la partita Cercando di capire Come lo puoi sistemare Ma secondo me Concertamente Non è sistemabile Perché Alle attuali condizioni A meno che Conte non cambia idea Su come devono essere Strutturati in campo Ai tersini Quara sarà sempre isolato Perché se McTominay si mette vicino A Lukaku McTominay non può stare Vicino a Quara Ad aiutarlo A rapire L'attenzione dei difensori Lobotka non può Sagli ad aiutare Quara Angissà sta giocando Sul versante destro E Olivera non sale Perché Olivera Non salirà mai Come fa Di Lorenzo Se Di Lorenzo Sta salendo Questa cosa Ce l'abbiamo chiara Lui dietro Conte Li vuole sempre tre E quindi c'è La classica cosa Del tersino Che flutifica Il tersino Che rimane bloccato Dall'altro lato E siccome noi Continuiamo In perterriti A lavorare Sulla destra A me pare di capire Che sarà difficile Vedere uno scenario In cui Quara Non rimarrà da solo Ma io lo capisco Perfettamente Che Conte A dispetto di quello Che mi potranno dire Perché mi diranno Sicuramente Non fai l'allenatore Blah 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 Ma a me non mi interessa Perché sotto gli occhi Di tutti E' inutile Che si fa finta Di ignorarla Nessun allenatore Vede Quara In queste condizioni E pensa Però sta andando bene Cioè Non ne esiste E' normale che arriverà Un momento in cui Pure Conte dirà Ok E' troppo isolato Quara Non riesce a far Nucaz Perché proprio E' così tanto evidente Che un giocatore È lasciato all'avversario Che lo triplica Altro che Che lo duplica Lo triplica E lo ferma Che non è possibile Che vada avanti Come situazione di gioco Poi come la possa risolvere Effettivamente Posso dire tranquillamente Di non avere le stesse armi E le stesse conoscenze A disposizione di Conte Quindi è probabile Che quando si metterà Lili Per risolverla Mi sorprenderà Esattamente come Mi ha sorpreso Quando è passato Al 4-3-3 Mascherato Però è sicuramente Una situazione di gioco Che va risolta Perché non sei mai vista Una squadra Che lascia Il giocatore Più creativo Che ha A predicare Nel deserto Secondo me È più un problema Legato al fatto Che vogliamo Per forza Convivere Con due piedi Nella stessa scarpa Cioè L'idea iniziale Di Conte Era praticamente Quella di Avere I tre Quindi Di Lorenzo Racumani E Buongiorno Sempre bloccati E lavorare con I laterali Gli esterni Quindi Olivera Dall'altra parte Avevamo iniziato Con Mazzocchi Ma A questo punto Si potrebbe Continuare Si potrebbe Fare con Politano Siccome ha addestrato Politano Ad essere Comunque Mazzocchi Come lo stavi usando All'inizio Quindi Se torna Come era prima Adesso Avresti Politano E Olivera E addirittura A malincore Dovresti fare Una scelta Siccome poi Parti Con Il centrocampo A due Non più A tre E invece Di adattare Scott A fare Comunque Nei che Lo vai ad adattare Perché Scott Sta giocando In queste posizioni Qua Quindi non Cambierebbe Niente Però Siccome Avresti I trade Bloccati Dietro Con Politano E con Glad Addestrato Più Nella fase Difensiva Potresti Pensare Addirittura Di Togliere Uno Tra Anghissa McTominie Lobotka Per fare Spazio Al buon Neres Che Magari All'inizio Del calciomercato Era stato Preso Perché Serviva Un altro Offensivo Prettamente Offensivo Vicino A cavare Lukaku Perché Tanto Tu Avevi Il Braccetto Più Il Laterale Che Doveva Occuparsi La fase Difensiva Con Il Centro Lampista E Quindi Ti Potevi Permettere Di Avere L'esterno D'attacco Molto Offensivo Da Tutte Due I Lati Quindi Si Potrebbe Rinunciare A Uno Tra Lobotka Anghissa E McTominie Magari Fare Effettivamente Come Si Era Pensato Il E Avere Comunque Più Pericolosità Offensiva Con Neres Inserito Nella Formazione E Comunque Si Avere Comunque Quella Solidità Difensiva Che Avevamo Avuto Fin Dall'inizio Della Stagione Anche Con Questa Sistimazione Tattica E Quindi Potrebbe Essere La Soluzione Anche Perché Il Problema Di Come Stiamo Giorando Adesso Secondo Me E Che Tu Puoi Fare Tutti Cambiamenti Che Vuoi Durante La Gara Che Sei Il Trasformista La Formazione Che Si Trasforma Che Quando Attacchiamo Attacchiamo Con I Tre E Quindi Poi Di Lorenzo Sale Buongiorno Oliveira Rimane Blocca Cioè Questo Trasformismo Si Può Fare Tranquillamente Però È Ovvio Che È Molto Più Dispendioso Perché Devi Sempre Cambiare Posizione Quando Dobbiamo Difendere Politano Fa Fa Sempre Chilometra Da Vini Fine C'è Quindi Dobbiamo Ricomporci In Questa Linea Cinque Con I Quattro Cioè È Molto Più Complicato Cambiare Modulo Durante La Partita Rispetto Ad Avere Una Situazione Tattica Del Genere Dove Alla Fine I Tre Dietro Rimangono Sempre Più O Meno Bloccati A Meno Che Quando Stiamo Attaccando Ci Sta L'inserimento Del Posizioni Qua E L'unici Giocatori Che dovrebbero Fare Su E giù Sarebbero Gli esterni E quindi Quando dobbiamo Difendere Si mettono E cà E quando dobbiamo Attaccare Si mettono E cà Con Ovviamente Uno dei due Centri Gambisti Che a turno Uno sale L'altro resta Oppure Uno sale L'altro resta Cioè Alla fine Vedi I Sarebbe Più Ordinato Cioè Molto più Ordinato Rispetto a Come facciamo Adesso Che Nel Disordine Comunque Abbiamo creato Un ordine Però Capito Quanto è Complicato A fare 5 4 4 5 4 3 3 4 4 2 Quando andiamo A pressare Addirittura Facciamo 4 2 4 Cioè Sono troppe Trasformazioni Durante la partita Che se passassi Di nuovo A questa Sistemazione Tattica Le faresti Molto più Semplicemente Con il movimento Dei due Laterali Perché alla fine Oliver e Politano Sono gli unici Che si devono Muovere Più di tutti Io sono sicuro Che la soluzione Sia relativamente Semplice Se lui Avesse a disposizione I giocatori Che desidera Perché Questo lo ha avuto Modo di accennarlo Sul canale Anche se Ne abbiamo parlato Molto meno Rispetto al peso Che secondo me Ha avuto Anche sulla decisione Di passare improvvisamente Al 4 3 Perché è ovvio Che il fattore scatenante È l'arrivo Di mattomeni Ma il peccato Capitale Ed originario È il fatto Che lui Non ottiene Il tornante destro Che credeva Di poter ottenere Durante la fine Del calciomercato Perché è normale Che se Conte Avesse avuto Esattamente L'uomo a destra Che desiderava Anche fosse stato Uno solo Che poi si doveva Alternare Con chissà chi Probabilmente Non avrebbe mai Cambiato modulo Il problema È che Si è ritrovato In una situazione Dove Inizialmente Spinazzola e Olivera Facevano un po' Di cambio Ma comunque Nessuno dei due Sembrava essere adatto Adesso Nelle ultime partite Olivera ha preso Le misure Su quelle che sono Le richieste di Conte È chiaro Però Entrambi Erano tentennanti All'inizio Rispetto alla capacità Di soddisfare Conte Infatti Se ne lamentava molto Del Del Tornante sinistro Di cosa Almeno in partita Come si vanno a vedere Nelle bordo cam Di Dazone Che ringrazio Alcune volte Fanno Un cuofo Un strunzato In dacchi Lividi Altre volte Ti fanno vedere Cose abbastanza Interessanti Però sulla destra Il problema è rimasto Nel senso che È vero Puoi metterci Mazzocchi Puoi mettere Politano Però non soddisfarai mai Con questi due giocatori Le caratteristiche Di Che richiede Conte In alternativa Qualcuno potrebbe dirmi Ci sta Di Lorenzo Ed è vero Però A quanto pare Conte Non si vuole Permettere Di mettere Mai più One Jesus E lo capisco Perfettamente E non vuole Non vuole contare Su Rafa Marin Al momento Anche perché Poi non avrebbe riserve Quindi Il problema Sta soprattutto Lì Secondo me Conte Non avrebbe fatto Questo passaggio Se avessi avuto Il tornante destro Che desiderava Sarebbe rimasta L'incognita McTominay Questo è vero Questo è vero Che sarebbe rimasta Però tutto sommato Io credo che McTominay Sarebbe stato Se non il primo cambio Comunque Quel dodicesimo uomo In più Che si alternava Partita dopo partita Con qualche altro Centrocampista O magari proprio Con l'attaccante Di riferimento Perché nelle primissime Uscite Noi l'abbiamo visto Entrare pure al posto Di Quara Allo scozzese Per cui poteva anche essere Che inizialmente Quello era il ruolo Che aveva concepito Per McTominay Però insomma Secondo me Il problema sta lì Io non credo Che Conte Volesse farlo Questo passaggio Tutto sommato Anche perché Posso dire È stato abbastanza Incoerente Ma per me Ha fatto bene Quando l'ha fatto Ma non lo voleva fare È stato praticamente Costretto a farlo Cioè È ovvio Che non lo voleva fare Tutta la preparazione Che abbiamo fatto Precampionato Non era quello Che stiamo facendo adesso Quindi È proprio ovvio Che abbiamo avuto Questa Perché poi Se ne è uscito Col discorso Il sarto Non il sarto Lui fa nata cosa E ne sta facendo un'altra Quindi Ho Secondo me Il problema principale È che non volevi Rinunciare Né a McTominay Né a Lobot Che neanche sa Perché Secondo me Gli dispiacerebbe Lasciare uno Di questi tre fuori E quindi Si accontenta Di Fargli giocare Tutte e tre Con Stupolitano Che gioca Molto a basso Alla fine Secondo me Per come sta Giocando Politano È pure soddisfatto Della Della Suve prestazioni Difensive Cioè Per come Ne parla Per come È così tanto Difficile Sostituire Politano Sembra Che sia Anche soddisfatto Quindi Secondo me La problematica Principale È che Non vuole Rinunciare A nessuno Dei Trecento Bisti Mectominion Chissà Lobot Secondo me Dei Fa la scelta Sì Guarda È vero È verissima Questa cosa Il problema Di Conte Se mi posso Permettere È che Così come Altri suoi colleghi Ma per Diversi Motivi Capisce Solo Quando Abusca O meglio Gli altri Allenatori Capiscono Di sbagliare Nel momento In cui La loro Proposta Di gioco Non funziona Quindi per esempio Pioli Passa la difesa A tre Nel momento In cui Pigliano Un cuofo Nei gol E non riesce A farne Conte Che invece Crede Veramente Nella sua Follia Nel suo Essersi Lavato Il cervello Nella mentalità Juventus Lui crede Veramente Che il risultato È l'unica Cosa Che conta Quindi lui Finché sta Vincendo Fa finta Di ignorare Per questo Ora negli ultimi Tempi E io devo Dire la verità Anche Conte Ha confessato Che ci sono Diverse talpe A Castel Volturno Solo adesso Sta pensando Di tornare a tre Perché fino Al momento precedente Dove i problemi C'erano lo stesso Ma di riffa O di raffa Vinceva Lui veramente Era convinto Che andava tutto bene Perché di riffa O di raffa Vinceva Ma ha pigliato Tre gol Se ha pigliato Una bella mazza Te dice Ok aspettate un attimo Allora forse C'è un problema Poi che questo problema Sia di difficile risoluzione Che i suoi Siano dei panni Difficilissimi Da vestire Io ci tengo a dirlo Non sto dicendo Che sia facile Sto dicendo Semplicemente Certi problemi Erano sotto gli occhi Di tutti Lui l'ha solo Voluto ignorare E anche De ridere Perché quelle poche volte Che domande Dirigente A riguardo Gli è arrivata Al risposto Con la spocchia Di chi vuole Mettere il risultato Davanti a tutti Non manca Avesse vincit La Champions League Avesse vincit Da Ebole 1-0 Con rigore Alla fine E quindi È facile Cioè è facile Eseguire L'onda Del risultato Secondo me Un allenatore Dovrebbe avere Un pochino Più di Capacità Polimorfica Basata su quello Che vede Non sul risultato Che ottiene Perché Non voglio dire Che era pronosticabile Che noi perdessimo 3-0 Con l'Atalanta Perché ci mancherebbe Altro A cosa che l'Atalanta O Real Madrid Ci l'ha ettissima Non è vera Però si vedeva Che il Napoli Era sempre più In difficoltà E vincevamo Sempre più Al falanino Di coda Con grandi Grandissime Difficoltà Nella costruzione Di gioco Ma anche Nel limitare Nel contenere L'avversario Oh aglio E partite Empoli E come Ma chi si scorda C'hanno E poi Noi ce ne siamo usciti Perché quelle 2-3 giocate Sono riuscite Durante la partita Ma le partite Sono state brutte L'unica partita Dove lui poi Ha dimostrato Un po' di coraggio Anche nelle scelte Di formazione Con il Lecce Ha fatto una partita Esagerata Hai subito anche Però in quella partita Tu sei uscito Vincitore a testa alta Non sei uscito Con qualche dubbio Di troppo Ed è quello Però Io voglio concludere Proprio dicendo Lo so che è difficile Ragazzi Lo so Però è quello il punto È un lavoro difficile Per cui tu sei pagato tanto 6 milioni l'anno In questo caso E quindi Ci sta Io ti bacchetto E ci sta Che io Ti prendo Un attimo Un attimo Per le orecchie Perché poi Io in particolare Non accetto Di perdere 3 a 0 In casa Ma questo è Il primo posto Questo è L'ultimo posto Io non accetto Di perdere 3 a 0 In casa E c'erano Dei problemi Che erano evidenti E che si potevano Gestire in maniera Più saggia Capendo che c'erano Prima Di perdere 3 a 0 Sì Diciamo che È sempre Da contestualizzare Questo Questo discorso E dal mio punto Di vista Quando La squadra Sta giocando In un certo Modo E comunque sia Si riesce a portare A casa Il risultato È rischioso Secondo me Andare a modificare Troppo Cioè Quando vi dico Una cosa Comunque Ti sta portando Di risultati E poi La vai a modificare Entri in Una specie Di dubbio Quasi esistenziale Nella tua testa Perché poi È ovvio Che Mettiamo il caso Che Conte Avesse avuto Quest'intuizione Prima Della sconfitta Con lui All'Atalanta Magari L'ha avuta Veramente Di dire Ma quasi quasi Mo torno Sui miei passi Perché secondo me Se continuiamo così Prima o poi Per dim Cioè Se l'avesse fatta Prima della sconfitta E poi magari Avessimo perso Cioè Vi rendete conto Che poi In automatico Avresti dato La colpa Di questa sconfitta Cioè Lui stesso Se la sarebbe data Al fatto che Effettivamente Forse ho sbagliato Ad andare a cambiare Una cosa Che fino a quel momento Stava andando bene Quindi secondo me È anche Normale Che lui Non abbia cambiato Prima della sconfitta Nel senso che Comunque si era costruita Questa cosa Questo entusiasmo Che comunque I giocatori Stavano cavalcando In un modo o nell'altro Noi ci siamo sempre Portati a casa 25 punti Sono parecchi punti Cioè Considerate che L'Inter L'anno scorso Stava a 28 Quindi abbiamo 3 punti in meno Dell'Inter Che l'aveva vinte Tutte praticamente E effettivamente Era rischioso Cambiare Ma com'è Dischioso Cambiare adesso Cioè Per me Io con l'Inter Non cambierei Non mi dite niente Perché Io cambierei Abbiamo fatto Questo video apposto Io tornerei Alla difesa 3 Però con l'Inter Non cambierei Perché già lo so Tu con l'Inter Magari vai a cambiare A Busco stesso E Va a finire Che Non hai risolto niente Quindi entri In questa specie Di Di problema Che te lo fai Diventa ancora più grande Perché non solo Non ha funzionato Quello che hai fatto Fino in mo' Ma non ha funzionato Nemmeno la soluzione Che tu hai trovato Che magari Ti poteva fare andare bene Quindi secondo me In questo momento È rischioso Cambiare Dopo l'Inter Si può iniziare A pensare Perché con l'Inter O giochiamo così O giochiamo come facciamo prima Comunque è una partita Che puoi perdere Cioè Senza alcun dubbio Puoi vincere Puoi pareggiare Puoi anche perdere Anche se fai le cose fatte bene Eccetera Quindi proprio per questo motivo qua Io non correrei il rischio Ancora di cambiare Aspetterei dopo l'Inter Guarda Io sono d'accordo Con te Sono d'accordo in generale Però ti 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 faccio il ragionamento Che abbiamo fatto Nel post partita Con l'Atalanta Proprio perché Siamo consapevoli Di quanto sia difficile Mettersi in discussione Soprattutto quando Ti stanno andando bene Le cose Perché noi abbiamo Elogiato particolarmente La mossa di Gasperini Quando Ha deciso di Togliere dai titolari Reteghi Che non solo È il capocannone dell'Atalanta Ma quello della serie Intera Perché Gasperini È un mondo Cioè Gasperini Cioè Gasperini Se domani prende A me Mi chiama Vuoi giocare Sì Mi fai qua È un genio Cioè Gasperini In questo momento Si è creato Una Così tanto credito Che qualsiasi cosa faccia Pure se la va a sbagliare Non fa niente Perché gliene sono riuscite tantissime Conte invece Comunque è vero Che tenono un credito incredibile Però Cioè Comunque è vero Ci dobbiamo ricordare Sempre che stiamo In una fase Un pochino delicata Di Che ci dobbiamo Prima trovare le certezze E poi facciamo Tutti gli esperimenti Che vogliamo Cioè Gasperini E l'Atalanta Tenono parecchie certezze Per poter Sperimentare Anche Troppo Alle volte Quella è La differenza Secondo me Capisco il discorso Però ti dico Chi non dà ne coraggio A Zegok Che il film è bello Si 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 Però capi Il nostro non coraggio Comunque Ci ha fatto Tutti questi punti Quindi È sempre là È molto Cioè non sapremmo mai Purtroppo Qual era la via giusta E no E no Perché Perché con il coraggio Che lui ha avuto Di mettere in discussione Se stesso Che parte di questi punti L'ha fatti E che a un certo punto Pur vedendo dei problemi Che io sono sicuro Se l'ha giusto L'ha visto Puglia Non ha voluto Gagnacchio Però Gasperini Ha pagato pure Dei bei packer In questa stagione Cioè non ci riscordiamo Che se no L'Atalanta Stia avanti a noi Invece Ci ha recuperato Ma io Io non ho discusso Sull'Atalanta Io ti dicevo Semplicemente Un allenatore Quando è chiamato A fare una scelta Difficile Perché vede Che ha da risolvere Una situazione Che sia nella specifica partita Perché c'è un avversario A cui ti devi adattare O che sia Perché hai una difficoltà interna Lo deve fare Cioè non deve Non deve Tentennare Temporeggiare Perché ha paura Di sbagliare Che poi nella paura Di sbagliare Perdi 3-0 Poi magari Perdi lo stesso 3-0 Mi dici Però per me Un conto È perdere 3-0 Perché effettivamente Stai cercando Di risolvere Un problema Che è evidente E quindi per esempio Perché tanti Difendono la Juventus Al momento La difendono Perché dicono Che stanno costruendo qualcosa È vero Non è vero Io non lo so Non sono sicuro Però capisco Perché effettivamente La Juventus Sta puntando Su un progetto A lungo termine Io non lo so Esattamente Conte Cosa avrebbe Costruito Su una squadra Che era in evidente Difficoltà Del vincere Le partite Era in evidente Difficoltà Quindi se avesse Cambiato Anche perdendo Poi mi rendo conto Che io sono un casa A parte Però io gli avrei detto Hai fatto bene Perché è chiaro Che non potevamo Andare avanti E che non possiamo Andare avanti Così Perché abbiamo Delle debolezze Troppo palesi Ed evidenti Che un allenatore Che un minimo Minimo Ha il coraggio Di puntarci Ci frega Poi è ovvio Che la partita Si vince Con l'individualità Capito Cioè sono comunque Punti di vista Perché comunque Puoi avere anche Il coraggio Di continuare A puntare Su una strategia Che a detta di molti Sta avendo Delle pecche Quindi probabilmente Crollerà Però tu c'è il coraggio Di continuare A puntare Su quella Strategia lì Capito Cioè alla fine Sono punti di vista Cioè alla fine Pure lui Potrebbe dire Io ho avuto il coraggio Di continuare Di insistere Perché tutti quanti C'erano un sacco Di segnali Che mi stavano arrivando Però io ho voluto Insistere Proprio perché Vabbè Poi quando perderemo Allora inizieremo A pensarci Però finché Ce la stiamo facendo Continuiamo Cioè secondo me Quello è il ragionamento Che ha fatto lui Lo capisco Lo capisco Perfettamente Come ragionamento Però non è il ragionamento Che mi aspetto Da un allenatore Grande Come Conte Che i problemi Li deve prevenire Non li deve osservare Mentre si realizzano E creano una partita Catastrofica Perché ragazzi Io credo Io credo Così facendo Secondo me Si rischia Di fasciarsi la testa Prima di farsi male Tu Prima ti fai male Poi ti fasci la testa Se ti fasci la testa Prima Ma finché vai A toccare Delle corde Che non devi toccar E succede Una cosa addirittura Più grave Di quella Che magari Sarebbe accaduta Cioè Sì E quello sto dicendo Cioè finché Il Napoli Non era malato Ma nemmeno adesso Siamo malati Solo dopo una sconfitta Cioè andare già A dare questo sciroppo Secondo me Potrebbe addirittura Creare altri problemi Sì 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 Ma io mi rendo conto Che è tutta una questione Di punti di vista Perché magari Io bestimio Me ne rendo perfettamente conto Ma io penso Che il Napoli Avesse dimostrato Di stare andando A sbattere con la testa Contro il muro Già da Como ed Empoli Quindi per me Non era una questione Di come Ma era una questione Di quando Dal punto di vista Di classifica Diciamo che ci siamo Con il racconto Ci siamo Abbiamo accumulato Un bel po' di punti E grazie a quei punti Potremmo fare Tutti gli esperimenti Che vogliamo Cioè Il famoso Fino in Cascina Ecco Grazie al Fino in Cascina Che abbiamo Abbiamo raccolto Adesso potremmo Permetterci di fare Sta partita con l'Inter Magari perderemo Amen Comunque stiamo lì Avremo il tempo Di provare la difesa a tre Di ritornare sui nostri passi Di magari Mettere Neres Titolare Cioè Con tutti questi punti Che abbiamo accumulato A Conte Ce l'ha Il tempo E c'ha i mezzi Pure per Provare parecchie cose Per arrivare Finalmente Al Napoli Definitivo Che Sicuramente Questa squadra C'ha del potenziale Inespresso E che deve Assolutamente Farlo rendere Al cento per cento Perché Ci sono tanti giocatori Che Sono sprecati Veramente Per come stanno Gli sta utilizzando Quindi Vediamo Con l'Inter È pericoloso Vediamo domani In conferenza stampa Se Gli faranno qualche domanda In tal senso Se stesso lui Ci darà qualche indizio Non ve la perdete Questo video finisce qui Fateci sapere nei commenti Cosa ne pensate voi Lasciate un like Se il video è piaciuto Iscrivetevi Condividetelo Così ci aiutate a crescere Come canale E forza Napoli Siamo in poi Ciao